Seconda battuta d'arresto per l'Albaverde Caltanissetta, che cede per 3-0 ad Erice contro la Procori e perde anche il primo posto in classifica. Una sconvitta netta quella delle pallavoliste nissene, che per la prima volta in stagione si sono trovate di fronte a un avversario ostico e deciso, che dopo un avvio di stagione altalenante sta ritrovando gioco e fiducia. Appuntamento adesso del 2023, quando il 7 gennaio al Palacanizzaro l'Albaverde incontrerà la capolista Pallavolo Crotone. Ecco i risultati dell'undicesima giornata del campionato di Serie B2 Girone M. Pallavolo Crotone e Cuscatania 3-0, Procori e Ricina Albaverde 3-0, Zafferana Stefanese 3-0, Funivia Etna Gioiosa 2-3, Brico City Ardenz Comiso 3-0, Saracena Fidelis Torretta 1-3, Vole Regione Planet 3-0. La classifica Zafferana e Pallavolo Crotone 29 punti, Albaverde 28-0, Procori e Ricina 24-0, Cuscatania 21-0, Gioiosa e Fidelis Torretta 20-0, Funivia Etna 17-0, Saracena e Vole Regione 12-0, Brico City 9-0, Ardenz Comiso 6-0, Stefanese 3-0, Chiude la Planet a un punto.